Un epilogo di primo turno playoff estremamente amaro non pregiudica una stagione davvero memorabile per Pallacanestro Umbertide che abbandona dopo appena due partite il sogno di proseguire la corsa che porta allo scudetto della Serie 1 femminile di Pallacanestro. Dopo la vittoria per 66 a 67 in gara 1 a Broni, la Pfu era chiamata a mantenere il punticino di vantaggio anche in gara 2 al Palamorandi, visto che per passare il turno contava la differenza canestri nel doppio confronto. Le Lombarde sono apparse però sin da subito con una marcia in più, chiudendo avanti di 5 all'intervallo lungo e arrivando addirittura anche al massimo vantaggio di più 15 nel terzo quarto, subendo però poi l'impetuosa rimonta di Umbertide capace anche di trovare il vantaggio nell'ultimo minuto di partita, cui la differenza la fanno gli episodi, tripe dall'angolo di Bratka per il più due proni, jumper dalla media fallito dal mezzo angolo per Brown sulla sirena finale con la Tecno Edge che vince per 54 a 56 e strappe il pass per i quarti di finale contro Lucca. Nonostante la comprensiva delusione per il mancato passaggio del turno e la chiusura anticipata dell'annata, rimane la consapevolezza di aver disputato un campionato al di sopra di ogni rosa e aspettativa per la squadra allenata da coach serventi per il nono anno consecutivo sulla panchina della PFU e capace di ottenere la nona salvezza filata. Traguardo principale è stato il raggiungimento dell'obiettivo salvezza ottenuto addirittura già da febbraio e la conferma del settimo posto finale, oltre che una regular season chiusa a quota 20 punti. Tutto questo considerando il livello di difficoltà del campionato tornato a 12 squadre, l'età media della squadra che si è attestata intorno ai 21 anni e gli infortuni che hanno subito le giocatrici in maglia bianco-azzurra, in particolare quelli ai danni di Milabove e di Lara Milazzo, due elementi focali nell'economia del gioco umbertidese. Impossibile dimenticare gli indomabili supporter sfratta, sempre presenti anche in qualsivoglia trasferta e sempre pronti a sostenere una squadra che ha regalato anche quest'anno enormi emozioni e soddisfazioni. Per questo si guarda già al futuro, al fine di ripartire il prossimo anno per quello che sarà il decimo campionato della PFU nella massima serie testistica nazionale, con l'obiettivo principale di confermare il vero deus ex machina del progetto bianco-azzurro, ovvero l'allenatore Lorenzo Serventi, guida imprescindibile per la squadra e lo sviluppo delle giovani, legato ormai a doppio filo a tifosi e città.